Siamo a Rimini in occasione del Congresso Nazionale della Fondazione Italiana Linfomi e con noi abbiamo il Vice Presidente della FIL, il Dottor Francesco Merli, nonché futuro Presidente della Fondazione dal 1 gennaio. Quali sono gli obiettivi fondamentali dell'attività della Fondazione? La Fondazione nasce per promuovere la ricerca clinica e di base nel campo dei linfomi, delle malattie linfoproliferative in genere. Gli altri due obiettivi sono quelli della formazione, consideriamo che la FIL raccoglie 153 centri, quindi centri molto grossi, molto famosi, ma anche centri piuttosto piccoli e quindi la necessità, la volontà è di cercare di creare uniformità anche di trattamenti o di approccio diagnostico a queste malattie, quindi un intento diciamo formativo, magari verso i centri più piccoli, con un particolare interesse, una particolare attenzione su quella che è l'attività dei giovani ricercatori. Noi in questi anni abbiamo promosso parecchie attività, da borse di studio a dei bandi per la ricerca a favore dei giovani inter 40, a un congresso interamente dedicato e gestito da loro, proprio perché cerchiamo di avere una prospettiva così di lunga veduta per quanto riguarda questa fondazione. Poi c'è il rapporto con i pazienti, l'iniziativa a favore dei pazienti, questo stiamo collaborando con l'AIL, c'è l'Associazione per la lotta alle leucemie con alcuni ex pazienti e vengono fatte almeno due iniziative annuali in giro per l'Italia dove i pazienti incontrano i professionisti, fanno le loro domande, consideriamo che stiamo parlando di patologie che hanno un'alta percentuale di guarigione, quindi con queste persone si creano dei legami molto forti fra professionista e paziente e fra i pazienti stessi e quindi c'è una sensibilità molto spiccata in questi ex pazienti. Quindi abbiamo parlato di tre obiettivi, abbiamo parlato di formazione, di rapporto con il paziente e di ricerca. Possiamo dire che sono tutti e tre allo stesso livello o c'è qualcuno più importante degli altri? No, come dicevo prima l'obiettivo primario è quello di promuovere la ricerca. In questo senso abbiamo fatto un'analisi del lavoro svolto fino ad oggi, dal 2011, quando è stata fondata la fondazione per vedere come ci rapportiamo rispetto a quelli che sono i gruppi, come dire, i nostri competitor stranieri, quindi in particolare in Europa i gruppi cooperatori francesi e tedesco che sono analoghi ai nostri, poi il gruppo spagnolo, il gruppo inglese. Abbiamo visto che noi ci collochiamo nonostante abbiamo una nascita più recente rispetto ai gruppi francesi e tedeschi, sono più grossi di noi e va anche detto dei mezzi probabilmente inferiori ad un supporto economico inferiore, ci collochiamo piuttosto bene. Abbiamo una media di 13-14 lavori prodotti su riviste scientifiche internazionali ogni anno. Questo è ancora lo strumento per valutare l'efficacia di una ricerca e con un impact factor, cioè un punteggio che assegna l'importanza a questi lavori, come dire, scrivere un articolo sul Corriere della Sera, lo stesso che scriverlo su un giornale locale, quindi un impact factor che è assolutamente comparabile ai nostri competitor stranieri, quindi credo che ci possiamo considerare soddisfatti anche se abbiamo ancora un margine di miglioramento. Ecco, parlando di margine di miglioramento e pensando al suo prossimo ruolo di presidente nella FIL, quali sono le basi da cui vuole partire? Quello che abbiamo visto è che abbiamo una base di professionisti piuttosto larga coinvolti nel lavoro della FIL e anche una base di ricercatori più una quarantina che hanno prodotto questi lavori scientifici. Questo vuol dire che c'è uno zoccolo duro di persone molto preparate e molto capaci. Io credo che uno degli obiettivi su cui dovremmo puntare con una certa rapidità, comunque una certa priorità, sia quello anche legato al fundraising. È importante mantenere i rapporti con le case farmaceutiche, per questo ci consente, per esempio sempre nell'ottica della centralità del paziente, di far utilizzare delle molecole che non sono in commercio a pazienti che ne hanno bisogno, ma è anche importante fare studi di altro tipo, studi cosiddetti accademici, ma che non sono meno importanti dal punto di vista della ricaduta sulla qualità di vita del paziente, uscite le possibilità di guarigione o sugli percorsi diagnostici. Per questo bisogna dotarsi di fondi. In questo noi stiamo ancora partendo in questa attività, però sto vedendo già dei miglioramenti grazie al nostro ufficio, al nostro centro studi e una parte dedicata anche a questo aspetto. In questi ultimi anni abbiamo decisamente migliorato. Questa è assolutamente una priorità. E poi fruire di alcune competenze molto specifiche, molto forti, che sono emersi in queste giornate, per quella che è la ricerca di base, in particolare penso al nostro lavoro strutturato in commissioni, che si dedicano alle principali patologie, il linfoma non è una patologia ma tante patologie, ma penso ad alcune commissioni tipo quella degli studi biologici in cui il gruppo italiano ha una funzione di traino, credo che ci collochiamo assolutamente alle prime posizioni, non solo a livello europeo ma anche a livello mondiale. Infine, per concludere questa intervista, le vorrei chiedere una cosa. Appartenere alla FIL ha un significato particolare? Possiamo già parlare di community? Credo che questo sia importante. L'intervento che ho fatto stamattina, io ho detto, cerchiamo non solo di chiedere, parafrasando John Kennedy, che cosa la FIL può fare per te, ma che cosa tu puoi fare per la FIL? Possiamo fare per la FIL. Accitazione alta, capisco, ma credo che anche il nostro lavoro sia alto e la situazione dei nostri pazienti assolutamente lo meriti. Quindi credo che sia importante fare sistema, fare squadra, che non è molto facile in Italia, non lo siamo abituati, normalmente ci sono tutti dei battitori liberi, un po' in tutti i campi, ma anche in medicina. Quindi è importante che noi riusciamo a fare squadra, dobbiamo avere le capacità, ci sono tante professionalità molto alte, questo è un don, una ricchezza, però è anche vero che è difficile gestione quando in una squadra hai molti campioni, metterli insieme non è sempre facile. Dobbiamo però essere capaci di fare questo, perché abbiamo un focus, una centralità che è rivolta al nostro paziente. Se riusciamo a fare sistema, riusciamo a fare cose grandi. Poi penso anche ai centri di media dimensione, di medio livello, io faccio l'ematologo a Reggio Emilia, che non è una metropoli esattamente, però noi partecipiamo a gruppi cooperatori alla FIL e prima altri gruppi sui linfomi da molti anni, questo è stato molto utile per un centro come il mio, ci ha aiutato a crescere e credo che dobbiamo replicare questo modello per centri di queste dimensioni, perché lavorare in collaborazione, lavorare in rete, fare sistema aiuta a crescere. Vicepresidente, grazie e in bocca al lupo per il futuro. Grazie.